mamma i'm going out, vai! vai? au re mamma, io salgo! a puttaro! mamma, stai salendo un rato, va bene? va bene mamma, vieni che sto uscendo, va bene? ah sì? e dove vai? chi ti viene a prendere? con chi esci? mangi dopo? mangi fuori? ti lascio qualcosa da mangiare? uè mi raccomando le chiavi! chi è qua cosi chiama? non è perché ti venga a prendere subito! oh maglione! ma sono 50 gradi! fa vieni da f***a! stata corta!